Poi abbiamo anche l'onorevole Daniela Santanchè che fa il punto su quella che è stata per molti definita essere estremisti questa alleanza con Berlusconi che si è riconsolidata in Forza Italia rispetto al nuovo centro-destra. Andiamo per gradi e sentiamo Silvio Berlusconi. Osservo che è stato senza giustificazione alcuna buttato per aria il regolamento del Senato che dai tempi del Codice Albertino 1848 prevede che quando si tratta di un voto sulla persona di un senatore questo voto debba tenersi a scutinio segreto. Ecco questo era già abbiamo preso ovviamente uno stragio perché poi per chi l'ha seguito in conferenza stampa era proprio una serie di tribunali di carte di nomi di date per cui impossibile riproporvelo in questi termini e non dovremmo comunque se ne occuperà chi di dovere. Mentre da questo discorso del voto segreto poi appunto chiuso con la lettera ai senatori rispetto appunto al rispetto dell'avversario politico quindi sottolineando sotto un'altra forma quello che è stato il colpo di Stato come diceva ieri. Partirei dall'onorevole Guidesi con un primo commento che vive insomma un po' tra i corridoi queste giornate e poi volevo sentire anche Cortiana che ci ha vissuto e credo sia ben contento di non esserci. Guardi gli dico due cose che fanno riferimento un po' alla situazione la prima io credo che Berlusconi essenzialmente abbia ragione su due cose la prima è che con lui i tempi della giustizia funzionano e funzionano anche molto velocemente la seconda quando lui fa riferimento al regolamento del senato ha assolutamente ragione la sua decadenza dovrebbe essere votata a scutinio segreto. E questo induce a pensare che nel futuro si crei anche un precedente di importanza di importanza notevole dal punto di vista per cui la responsabilità comunque da parte della gestione del senato dovrebbe essere indurre anche a pensare come sarà il futuro con questo precedente così forte. Poi francamente le dico che l'interesse sulla questione giudiziaria io non ce l'ho se non quello politico ma non ce l'ho perché non conosco le carte giudiziarie e non sono in grado di dare un giudizio sulla situazione. Dico però che il paese ha delle altre esigenze questo lo dico francamente cioè il fatto che sia Forza Italia, Nuovo Centrodestra, l'ex PDL che il Partito Democratico che continuino a giocare questa partita sul sì e no a Silvio Berlusconi fa passare in secondo piano le esigenze che ha questo paese cioè noi stiamo vivendo un disagio sociale incredibile e io credo che alle persone, alla gente della decadenza o meno di Silvio Berlusconi se non per gli addetti della politica interessi ben poco. Questa è la voce dell'onorevole Guidesi, Lega Nord, sentiamo anche Fiorello Cortiana. Io dico questo, vorrei ricordare a tutti quelli che ci ascoltano o ci guardano che Berlusconi nel 94 quindi quasi 20 anni fa è sceso in campo come disse lui per due preoccupazioni principali. Da un lato quella di garantirsi una rendita di posizione col suo sistema mass mediatico da imprenditore. Certo. Essendo venuto meno il suo politico di riferimento di garanzia che allora era stato Bettino Crassi per un certo periodo. In secondo luogo per mettere mano agli aspetti che erano di natura giudiziaria che riguardavano la sua persona o le sue aziende o dirigenti delle sue aziende. Siamo 20 anni dopo quindi il tempo non mi sembra sia stato così rapido. Lui è un condannato definitivo dopo la terzo grado di giudizio rispetto a uno dei procedimenti che l'ha riguardato. In altri è stato prescritto perché si è fatto leggi a persona. Io credo che sia tempo che questo paese si sottraga dall'essere ostaggio di Berlusconi. Devo dire che però Berlusconi non è nato da solo. Berlusconi che ha scelto le derive di natura personalistico-publicitaria non è stato Berlusconi, le ha usate con anche grande capacità di comunicazione, di racconto, di vendita di un sogno che era meno burocrazia pubblica, meno soldi tangenti impartiti, più libertà di impresa. Non ha realizzato nessuna di queste cose, dove ha messo mano, vorrei ricordare per ultimo l'Aquila, burocrazia c'è stata, tangenti ci sono state e libertà di impresa non abbiamo visto. Credo, sono d'accordo con quello che è stato detto prima, questo paese ha altre emergenze. Io non entro nel merito del regolamento del Senato, di come è stato interpretato, di come il Presidente Grasso l'ha condisceso. Io dico che uno con condanna definitiva al terzo grado comunque sappiamo che deve neanche arrivare alla votazione. Esatto, questo è un aspetto che riguarda il Parlamento, ma c'è un elemento di definizione che riguarda la magistratura, come sapete deve dire questa interdizione. Quindi in realtà la persona sta cercando disperatamente, a mio avviso con un aspetto un po' patitico senile, dico la verità, di cercare una negoziazione che riguardi un salvocondotto per sé e per le aziende che lascia i figli. Che rappresentava e che sono legati ai figli. Allora, questa era la voce di Fiorello Cortiana, sentiamo prima Gatino e poi l'audio, come dicevamo, dell'onorevole Daniela Santanchè. Prego Gatino, buonasera al nostro ascoltatore. Buonasera, buonasera a tutti e tre. Grazie. Se una persona ha fatto quello che ha fatto lui, lo farebbe io che sono un cittadino, che cosa farebbe i giudici? Mi tassano tutto questo tempo di prendere avvocati, di dire... Quel signore che ha parlato prima di me, quello ragiona bene, perché è stato condannato la prima, la seconda, la terza volta. Che cosa c'è, il corpo di Stato? Cosa c'è più questo uomo? Se è un uomo di uno che sbaglia, se ne andava prima negli avvocati, lo condannavano prima, e si difendeva. Lui non ha mai presentato neanche una volta al tribunale. Poi parla di corpo di Stato, ma lui si dovesse vergognare. Sinceramente, io sono all'età di Berlusconi. Io quello che ha fatto lui farebbe io mi butterei di un palazzo. Grazie. Grazie Gatino. Gatino dice, io seguendo la vicenda, piena fiducia in quello che è il percorso della magistratura, e come diceva Cortiana, insomma è lì da vedere, no? Se ci si fida, se poi non ci si fida più della struttura, è chiaro che allora non bastano più né tre, né quattro, né cinque gradi di giudizio. Daniela Santanchè, orgogliosa di essere estremista. Assettiamo questa dichiarazione. Quando si decide, con delle sentenze false, di cacciare fuori Berlusconi dalla vita politica e dal Senato, come lo chiamate voi? Un colpo di testa? Ma un partito che nasce nella settimana in cui decade il suo leader da senatore avrà vita lunga o riesce a scomparire? Ma guarda, non lo fanno decadere Berlusconi da leader i magistrati o i senatori del Partito Democratico. I leader vengono eletti e vengono votati. Berlusconi ha milioni e milioni di italiani che l'hanno votato e che continuano a votarlo. Per cui noi non sentiamo Berlusconi meno forte, anzi lo sentiamo più forte. Perché con l'accanimento che c'è nei suoi confronti, credo che moltissimi italiani, anche quelli che non hanno mai votato Silvio Berlusconi, alla prossima tornata voteranno Silvio Berlusconi. Ecco, questa era la voce dell'onorevole Santanchè. Certo, la versione, ecco, Catino, se ci stava seguendo, si sposta proprio sul fatto di la persecuzione, di una sentenza falsa. Però allora, c'è i tre gradi di giudizio, sono abbastanza garantisti, dice Cortia. Adesso io non voglio entrare nemmeno Berlusconi, ma in generale questo non crea confusione rispetto a una giustizia che molte volte è lenta, che molte volte mi vengono in mente, oggi, torniamo alla giornata dedicata alle donne, a una giustizia che anche dove le leggi ci sono purtroppo si inceppa un po'. Penso agli incidenti stradali, le vittime della strada, penso a tante persone che magari come una gattino, per motivi anche magari economici, non riescono ad avere i diritti che una legge o che uno Stato ti dà. C'è, te li dà, però se tu cammini senza scarpe ti fai male ai piedi. Per cui in tutto questo mi domandavo da cittadino, al di là veramente dell'aspetto politico, quanto sia poco d'esempio, anche sparare così, dove onestamente tante cose dovremmo fare per la nostra amministratura, per i tempi, per la burocrazia, per le carceri, per la gente che aspetta, per i tanti anni.